il signor natale si svegliò presto quella mattina si alzò dolcemente come era solito fare per assaporare meglio il momento del risveglio si lavò con ancora più cautela gli occhi e poi cominciò con gradevole soddisfazione a curarsi la barba non badava molto al vestito alle scarpe ma per la sua barba aveva pettini e balsami di ogni tipo in effetti avere cura di una barba di oltre 2006 anni era importante ed essa si manteneva ancora forte e luminosa quel colore argenteo donava al suo viso una luminosità che rendeva giustizia a colui a cui era stato concesso per potere divino la possibilità di rincuorare animi ed elargire sorrisi ma diciamola tutta forse non curava così la sua folta seta argentea lui la sentiva di questo tessuto per coscienza estetica la sua età non gli permetteva queste frivolezze a proposito aveva un anno il buon babbo natale aveva solo un anno che ci crediate o no io posso dimostrarlo e dopo forse lo farò le dolci premure dicevo che trasmetteva con la sua barba erano solamente dovute all'aria che quella barba gli regalava e a quello strano piacere che si prova nel dare delicatamente soprattutto quando ci concediamo un'aria un po troppo pesante le quattro renne che per pigrizia lavorativa tentavano in vano di farsi compatire accusando malori improvvisi febbri deliranti tante scuse furono sellate con carta da regalo e fiocchi lucenti a natale non piacevano molto questi animali per questo le infiocchettava pomposamente ma come ben sapete la tradizione ha le sue regole e nemmeno natale può fuggire da queste i quattro poco riconoscenti animali del resto non erano diventate sempre così famose il suo destriero si alzarono dolcemente cambiando rotta più volte capirete che non è facile guidare degli animali annoiati e per di più arrabbiati per il loro addobbo da negozio a chiappa citrulli durante il volo natale si accostò ai ricordi non osava incontrarli senza premura perché lo riconducevano verso viaggi troppo trasparenti più gratificanti che gli facevano scordare la missione per cui era stato scelto gli ultimi viaggi non erano stati proprio un fiasco ma tutte le volte che terminava il suo pellegrinaggio nel mondo tornava con un gran mal di testa e una grande voglia di dormire e così faceva per circa 364 giorni questo nuovo viaggio però doveva continuare ad addolcire la nausea e il mal di pancia delle renne con la solita scusa che adoperava da anni non vi preoccupate questo sarà l'ultimo viaggio per voi poi si va tutti in pensione tanto i bambini si stanno dimenticando di me e tutte le volte che pronunciava queste faticose parole come una formula magica che riesce nel suo intento una lacrima gli rigava il viso poi sbuffava un po prendeva il suo solito fazzoletto con sopra scritti gli indirizzi delle case che aspettavano il suo arrivo lo leggeva attentamente e così come per magia il viso si intonava di sicurezza l'anima si rincuorava e il suo veramente pronto per portare i regali se avessi più tempo continuerei questa modesta favola ma il racconto sarebbe lungo 2006 anni forse anche qualcosa in più ma voglio soltanto provare per quanto possa a dirvi chi era il buon vecchio babbo natale natale innanzitutto non era un uomo sì ho capito voi vi starete chiedendo se la barba il vestito la lacrima non facciano parte di un uomo forse o forse no natale aveva tutto l'abbigliamento al posto suo per regalarci una figura buona e calma saggia e piena di salute che con le sue guance rosse riusciva a mischiare un aspetto istrionico e fanciullesco saggezza e ilarità ecco cosa trasmetteva e ditemi se è poco ma natale non era solo questo almeno non solo quello che voleva essere natale era scarabocchiando qualsiasi dubbio un'anima ma non di quelle normali che si trovano a buon mercato che si compiacciono di qualche buona azione fatta nel periodo degli alberi albelliti ma un'anima con una voce dolce e soave calda e riliaca che ci attraversa se tentiamo di ascoltarla ogni momento della nostra vita questa voce è nei gesti di un padre austero in un abbraccio che non arriva in una parola che non ha vita un caldo che non riscalda una lacrima che si intimidisce un sorriso che non illumina il viso quella voce è lì basta ascoltarla basta invitarla e lei premurosa e felice verrà a ribaltare ogni atto satollo di freddezza che incline alla chiusura allontana i dolci abbracci le calde mani travolgenti sospiri relegandoli dentro ampolle di piombo natale si presenta come un vecchio solamente per tentare di farsi riconoscere per venirci incontro ma lui vuole di più vuole che andiamo oltre e solo così sotto forma di un sapere trascendentale scopriremo che egli è l'aria buona del mattino il sole che improvviso squarcia nuvole capricciose il caldo sapore di un'azione filantropica e amichevole la magia di una gioia improvvisa la calma dopo un'ira assopita una luce che rincuora e allatta una mente ombrosa perché no una vipera che decide di non mordere più di esempi e paragoni potremmo farne fino alla befana ma non c'è bisogno di scrivere basta ascoltare e forse quella lacrima che gli riga il viso non avrà più la sfacciataggine di presentarsi buon natale signor natale e buon natale a tutti voi carlo